Una sfilata di Barbie vere per festeggiare i 50 anni della bambola Mattel. L'ha pensata veramente alla grande, Rossella Iobbi, titolare dell'agriturismo I Due Cipressi, e fautrice di una mostra di esemplari da collezione. Dal defilé uscirà nei prossimi giorni il nome di Miss Barbie, cioè la più bella modella o perlomeno quella che ha saputo interpretare al meglio l'eleganza e l'avvenenza di Barbara Millicent Roberts. Ho voluto fare una festa in rosa, in pratica tutti gli invitati dovevano avere perlomeno un accessorio rosa. Per questa occasione ho deciso di vestire alcune ragazze con dei costumi di Barbie e poterle far sfilare all'interno dell'agriturismo e poi offrire agli invitati un buffet. Nella cornice dell'agriturismo di Ripatransone, centinaia di persone hanno soffiato sulla torta tutta rosa con sopra le 50 candeline. Rossella ha quindi mostrato gli ultimi arrivi, come le Barbie Holiday e quella celebrativa per i 50 anni, cioè una ballerina di colore. Molto chicca anche la Build Lily, risalente al 55, una new entry importante nella collezione ripana in quanto antesignana della Barbie. Tra le novità della mostra Fashion Dolls, aperta tutti i giorni dalle 16 alle 19, ci sono diverse Silkstone, riproduzioni della prima Barbie, ma con un make-up più moderno e colorato. Si differenziano per il materiale, il Silkstone appunto, che letteralmente significa seta a pietra. Antique Rose è invece il nome di un altro esemplare che riempie le teche di Rossella. Ha rose sul vestito e stile roccocò e anche nei capelli. Due le nuove e preziosissime ponytail, le primissime Barbie con acconciatura a coda di cavallo. Tra palloncini e tovaglie monocolore si è consumato il party rosa, con adulti e bambini presi ad ammirare le bambole in passerella, che proprio come la prima Barbie non dimostrano affatto 50 primavere. Sì, ho 15 anni. E quindi da piccola giocavi con le Barbie? Tantissimo, sì. E tuttora ti piacciono? Quelle da collezione, ovviamente. No, qualche volta le ritiro fuori, però stanno sempre lì. Tra quelle che hai visto sopra nell'esposizione di Rossella, qual è la tua preferita? Sono tutte bellissime, non ce l'hai una prima, piacciono tutte.